Ciao ragazzi, sono Matteo della Rosso nel Cuore, siamo qua al quadro di Monza con Giovanni, Gio Calandri, esatto, è il nostro ragazzo che ha vinto la maglietta, domani c'è Luis, mi ricordo per l'ordine della maglietta che ha vinto, mi raccomando, non c'è trucco, non c'è inganno e domani saprà il suo regalo, tanto ambito. Continua a seguirci, iscrivetevi, mi raccomando e Forza Ferrari, a voi. E bentornati, cari ascoltatori della Rosso nel Cuore, io sono Luis e lui è un fan della pagina, siamo finalmente a Monza, ieri c'è stato in qualifica il mio amico Matteo, ma oggi siamo in gara, quindi speriamo in un bel gran premio, vi farò vedere tutto quanto. Problemi, 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 vi faccio vedere dove sono postato, 50 metri della parabolica, teleschermo, un po' dietro paddock, c'è un ferrarino, c'è un mio amico, olandesi, olandesi, tour finito, forza carnetto, adesso scendono un po' di vetture storiche. Red Bull. Dai ragazzo, vai c'è! Dai, fuori! Dai, Carlo! Dai! Dai! Bravo, Giorgio! It's big and big and big and Oh, my God, it's a show of the world! Oh, my God! Che bello ragazzi! Sotto la bandiera ragazzi, è un sogno, dopo 12 anni che ci provo ci sono riuscito! Dove è il cavallino, è qua il cavallino! Bene ragazzi, con il podio qui sopra vi saluto con questo nuovo vlog, vi saluto anche con Giovanni, il vincitore della nostra maglietta, orgoglioso, forza Ferrari! Sempre, sempre! Con questo video io vi saluto, ci vediamo per il nostro vlog speciale e per i top e flop! Ciao ragazzi!